Weekend all'insegna dei controlli da parte dei carabinieri in provincia di Messina. I militari dell'arma hanno bloccato i lavori in un cantiere edile a Malfa, sulle isole Olie, per il mancato rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori. Il titolare dell'impresa e l'addetto alla sicurezza sono stati denunciati ed è stata elevata una multa da 35.000 euro. I controlli sono stati effettuati dai militari del nucleo ispettorato lavoro, d'intesa con il dirigente dell'ispettorato territoriale del lavoro di Messina, Enrico Zaccone. Nel cantiere non sono stati installati i parapetti per proteggere gli operai del pericolo di caduta e il mancato rispetto della viabilità di cantiere. I 13 operai impegnati nella ristrutturazione invece sono risultati tutti in regola. Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Sant'Agata dei Militello hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, predisponendo pattugliamenti anche nelle ore notturne, concentrati soprattutto sul litorale e nei luoghi della Movida. Nell'ambito dei servizi alla circolazione stradale, i militari dell'arma hanno controllato più di 40 veicoli e oltre 90 persone. Contestando diverse contravvenzioni al codice della strada, tra cui il mancato uso del casco e l'utilizzo del cellulare alla guida delle autovetture. Inoltre un giovane è stato segnalato alla prefettura di Messina come assuntore di droghe. È stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e detenuta per uso personale. Nel corso dei servizi militari dell'arma hanno inoltre denunciato una 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna, all'esito di una perquisizione personale estesa anche al suo domicilio, è stata trovata in possesso di oltre 10 grammi di hashish e circa un grammo e mezzo di eroina. La droga è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio.